Fulmi, cioè raga 5 e 40 non po- Ciao a tutti ragazzi, sono Aide, come vedete torno con un nuovo video E c'è poco da dire raga, è stato battuto il record italiano di risoluzione del cubo di Rubik Un tempo assurdo fatto da Valerio Locatelli, che ha, pensate, 15 anni E ha fatto 5 secondi e 40, un mostro, una macchina E non posso far altro che complimentarmi con lui, sono tempi che per me sono lontani anni luce Per questo io risolvo il cubo di Rubik con la magia Ma oggi voglio vedere insieme a voi il video del record, che mi è stato gentilmente inviato da Carolina E commentare un po', spiegarvi come funziona la gara, come funziona il record E fare qualche osservazione Prima di iniziare raga, lo vedete qua, io non ce la faccio a non dire niente E ve lo spoilerò proprio così prima dell'uscita Sta per uscire un mio nuovo prodotto, un mio nuovo cubo, ovvero Tris Cube Non voglio dirvi troppo di più, per ora sappiate solo che è il gioco del Tris in tre dimensioni su un cubo Uscirà il 15 novembre, raga so che sembra uno sponsor ma sapete che io non faccio sponsor a nessuna azienda Lo faccio solo alle mie cose Niente raga, sono stragasato perché questa secondo me è una figata È il primo cubo di Rubik al mondo che si usa in due La data la sapete, seguitemi su Instagram per non perdervi nessun dettaglio Non perdervi soprattutto il lancio perché le copie saranno limitate Ma ora vediamo il video di Valerio Ok raga ci siamo, questa è la risoluzione Adesso c'è una primissima parte che si chiama ispezione Ovvero dove lo speedcuber in questione guarda il cubo e cerca di prevedere le prime mosse che farà Questo chiaramente serve per velocizzare la risoluzione E mentre fai queste mosse che hai già in testa guardi quelle che farai dopo Tutto questo in tempi incredibili e che ha portato in questo caso Valerio a fare poi il record Partiamo Ok, ispezione come vi dicevo Ok, sta già per partire Eccolo qua Mamma mia raga Full me, cioè raga 5 e 40 Non faccio un tempo a dire niente perché Infatti guarda tutti si accorgono del record Casino generale ovviamente fenomeno davvero Questo video è allucinante Perché 5 secondi e 40 raga è un tempo che comunque anche a livello mondiale si può sentire Ora il record è sotto i 4 secondi Però lui secondo me con allenamento può tranquillamente competere con i big mondiali Ok, il video era veloce Però cerchiamo di capire un attimo cosa succede Intanto nelle gare ufficiali come vedete viene dato un timer dove tu appoggi le mani Togli le mani, parte il tempo, rimetti le mani, si stoppa il tempo Quello che vedevate appunto con i secondi che partivano Così super preciso Addirittura il tempo in questo timer arriva ai millesimi Però poi da quanto so vengono considerati solo fino ai centesimi Lui ha fatto 5 secondi e 40 Come avete visto parte iniziale di ispezione Fa il cubo Stoppa Casino generale Perché chiaramente chi è lì sa qual è l'attuale record e sa che Valerio l'aveva battuto Come funziona però una gara? Molti di voi potrebbero dire Beh ha beccato la risoluzione fortunata ed è riuscito a battere il record Senza dubbio è stata una risoluzione più fortunata di altre Ma per quanto una soluzione sia più fortunata Comunque farla in così poco è davvero disumano In realtà però alle gare non viene fatta fare una risoluzione sola Ma ne vengono fatte fare 5 Per questo i record della risoluzione classica del 3x3 sono quello singolo Quindi in questo caso E della media Se non sbaglio Locatelli ha anche il record della media Ed è stato il primo italiano a scendere con la media sotto i 7 secondi La media come funziona? Si fanno 5 risoluzioni e si fa la media dei tempi di queste 5 In questo caso tra le 5 ce n'era una 5 secondi e 40 Che ha battuto anche il record nazionale Ricordiamo che Valerio ha 15 anni Quindi è giovanissimo Ha tempo ancora per allenarsi Non voglio gufarlo Incrociamo le dita Ma se continua di questo passo Può come dicevo prima Tranquillamente competere con i big mondiali Potrebbe già partecipare a gare di livello mondiale Perché comunque non è che tutti ci mettono 5 secondi Quello che dico è che potrebbe arrivare a vincerne O comunque prendere dei podi in gare molto importanti Ah raga ditemi Se vi piacerebbe vedere una collaborazione con lui Perché a me sono venute in mente delle idee Vi ricordate che ho quel robot che risolve il cubo di Rubik Per chi non lo sapesse questo qua Ve lo faccio vedere Ci ho fatto un video anni fa a riguardo ed è sto robot Della Gun Dove tu metti il cubo di Rubik qua in mezzo E lui te lo risolve E di media ci mette 5-6 secondi Questo vuol dire che Valerio potrebbe competere Quindi sarebbe fighissimo un video dove lo sfido a battere il robot Ditemi voi nei commenti se volete una collaborazione di questo tipo E a quel punto contatterò Valerio e cercheremo di organizzarla Quindi ancora complimenti C'è pochissimo da dire Io non posso che ammirare e stimare tantissimo Valerio per questo record E' bello vedere il mondo del cubing che si evolve Prende piede anche in Italia Insomma si sta sviluppando Io sono un forte sostenitore di questo mondo Nonostante in realtà il mio ambito sia magia Quindi io faccia magia col cubo di Rubik Facendo il tutorial del cubo Parlano di cubo Ho avvicinato tante persone a questo mondo E quindi vedere che ci sono persone che fanno record Persone che popolano le gare E insomma persone che parlano di cubo di Rubik Mi fa davvero tanto tanto piacere E nulla raga Io spero che questo video vi sia piaciuto E sia stato interessante Quindi direi che ci vediamo a un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti